Elegante, a tratti dura, quando si è trattato di parlare dell'antifascismo, avvolta da un alone di vaga dolcezza nel parlare del compagno di una vita, perentoria, riguardo temi ostici come quello della violenza, e in ogni dimensione di argomento, libera. È il ritratto di Margherita Hack, magistralmente portata in scena da Laura Curino, diretta da Ivana Ferri. È andato in scena ieri Margherita Hack, una stella infinita, il secondo appuntamento della stagione di Teatri Aperti, organizzata dall'Associazione Culturale e il Mosaico, con il sostegno del Comune di Corbetta. È stato molto difficile alla proposta di Ivana Ferri di fare lo spettacolo, infatti mi chiedevo ma come facciamo a fare Hack? Non le somiglio nemmeno, non sono toscana. E poi mi sono molto rassicurata perché appunto la regista ha detto non faremo Hack, leggeremo tutte le sue dichiarazioni, non metteremo una sola parola estranea nel testo che Margherita non abbia pronunciato, ma poi è Laura che le trasmette al pubblico. Da quel momento tutto è stato più semplice per me e poi quello che ho pensato è parola per parola di non, come dire, infiorettare, di non infiocchettare, meglio dire, le parole di Hack. Quindi cercare di non diventare né più pungente di quando tu già fosse esagerando e né di mettere melassa e di ammorbidire quando le sue affermazioni erano polemiche o tagliate con l'accetta, con grande coraggio da parte di questa donna. Aiuta moltissimo la musica, aiuta moltissimo questa traccia che mi accompagna per tutto il lavoro, aiutano le illustrazioni che ci sono, sono delle splendide illustrazioni, la disegnatrice tra l'altro è scomparsa di recente, aiuta molto anche questa grande simpatia che aveva Hack, per cui il pubblico viene ben disposto. Da una parte viene lì a dire ma questa adesso che Hack ci farà? Quindi è un po' diffidente, ma ben disposto verso Hack. E quando scoprono che non aggiungo né tolgo, allora li sento poi tutti con me. Credo che il momento in cui mi identifico in maniera forte, e credo ognuno di noi si identifica con Margherita, è il momento delle domande. Perché esiste l'universo? Cos'è il tempo? Cos'è lo spazio? Queste domande grandissime a cui lei da grande scienziata risponde non lo so, non lo so. Conservando però di questo non sapere, non una traccia di dispiacere, di incompletezza, di vuoto, ma una meravigliosa traccia di stupore, di meraviglia per tanta bellezza e l'indicazione forte a non rovinarla.